Benvenuti ragazzi, io sono Roman e oggi siamo su Minecraft Ok, questo qua è il mio primo video su Youtube e anche su mio canale Quindi spero di piacervi, iscrivetevi se volete Consigliatevi altri minigames, dei giochi da fare su Minecraft E comunque oggi vi voglio far vedere una modalità molto bella che mi piace Che è una modalità americana che è stata portata qui in Italia Sul server Pig Party Ecco E niente, dai ve la mostro La modalità è questa, Bad Wars Ok, la modalità è questa, Bad Wars Ora ve la narro Aspetta, però fammi aprire un attimo il menu Ve la narro Ecco, avete presente le Sky Wars? Bene, sono tipo quelle, ma con un letto Quel letto infatti lo dovete proteggere Se lo proteggete e non viene ancora distrutto Potete respawnare ogni volta che morite Invece, quando verrà distrutto Non potete più respawnare E quindi appena uccisi morirete per sempre Potrete vedere tutti i giocatori che giocano Ancora sarete tipo dei fantasmi volanti Ma non potete giocare Lo scopo è di distruggere gli altri letti Di ammazzare gli altri giocatori E di vincere Soprattutto di vincere Non è da molto che ci gioco Ma sì, dai Diciamo che sono abbastanza bravo Quella classic con uccisioni Morti Vabbè Guardiamo le morti Beh, le uccisioni le ho fatte qua sempre con un piccone di legno Ok, comunque Cosa dire Boh, spero che vi piaccia Vi piaceranno i miei video Che ho proprio aperto oggi il canale Sicuramente vi chiederete Roma Vi chiederete che ho copiato il nome Di uno youtuber Eh sì, l'ho abbastanza copiato da uno youtuber Ma l'ho copiato semplicemente perché non trovavo uno E quindi visto che ha smesso di fare i video su youtube O almeno come ha detto Eh, ho deciso di prendere il suo nome Però modificarlo un po' Invece del numero 96 ho messo 12 Che è il numero della mia età Comunque la partita sta per iniziare Tra 10 secondi Eh, ok dai Prepariamoci Tra l'altro siamo in una bella mappa In cui sono abbastanza forte Dai Anche la skin un po' l'ho presa Ve la faccio vedere quando siamo assoliti Così la vedrete meglio Eccola qui Così Ecco, non vedete? Queste cose qua sono le mani per sbaglio Dimenticate di togliere E quindi devo per forza Per ora usalo così Però dai, anche così sono abbastanza belli In più se vedete bene Vedete che sembra che c'è un distacco Che il nero più dentro E gli altri colori Sono fuori Ecco perché ho utilizzato Questo tipo così Che mi piace Che è molto bello Comunque vi mostro dove è il letto Per io prendo l'ultimo ferro Il letto è qui Eccolo Noi non lo possiamo distruggere Quella è il centro Quella è l'isola nelica Vedete sono belli grandi Ok E dove è la discesa Che qui non bisogna più o meno mai stare fermi Quella è sempre lì Un segretino Bellissima skill Un po' indietro è brutto Perché è tutto nero Abbiamo anche un po' di cibo Eh ho comprato Le mele d'oro Non so perché Compriamo anche molti blocchi Ora Che sta facendo Ah no si Facciamo così E cazzo E così Andiamo a proteggere il nostro letto Poveri tutti gli altri Che sono rimasti lì Ma non me ne frego il cavolo di loro Dovevano Fare Meglio Ok mangiamo Comunque oggi nella squadra Qui di baricare Ok sono tornato Eh come vedete è passato un po' di tempo C'erano qui tutto il tempo a morare Ma dovevo un attimo andare da una parte Comunque Eh ora moriamo ancora un pochino Perché ho lasciato Di alcune cose No ci mettiamo veramente D'altri miei Non ho ancora morto nessuno Mi sembra Dei miei Sono bravi Sono bravi Mi faccio inserire Adesso è più o meno Non è più tenente Ok C'è l'appunto Sopra Sopra c'è uno dei rossi Ah no Sì no no Anch'io sono uno dei rossi Per fortuna Non volevo comandare Ero spaventato che ero Pensando che ero un nemico No veramente Si ero un nemico Io non potevo incazzare molto Perché l'ho murato Stra bene Rompiamo questo Scusate Lo sto rompendo con una bottiglia La cosa è abbastanza impossibile rompere Però dai Va bene L'ho murato Già Però moriamo anche qui Ok Ehm Prendiamo qui Sceglie Ma perché io ogni volta mi spavento Quando sento sto rumore Prendiamo strappante di questo Che è quello Uno dei miei Questo vita Dora abbastanza lungo E sarà abbastanza lungo Perché di solito queste cose sono lunghe Ma sono un cretino Sì c'è Dovevo prendere anche quelli Però mi sembra che ne ho preso un po' troppe Ok Ok così Dovevo prendere anche il porto Ah qui Oh Come è Moments bug Ok Grazie Ma arrivassi noi Con Green Con 3 green Ehm Cavolo Segno nucleare Adiettivo La sono Ok la sono La uno dei re Mi sembra La yellow Quella loro deve essere Green Ma perché non va dei green Sei di coglioni Ma capisco Adiettivo perché non va dei green Potremmo noi Soprattutto qui Di cino Sti bastardi Di volte Mi sono abbastanza Sfruttando Mi sono abbastanza Ok ma che sono lì Non mi possono vedere Perché sono ascoltato Ma potremmo vedere Ma potremmo quante cazzo sono Ma il centro Che avevo visto l'ora Cazzo Troia sono tanti No stanno scendendo Stanno scendendo Non ho molto soldi Non capisco Uno mi sembra che è qui dentro Cazzo Non sono più qui dentro Non è solo uno No cazzo Ah no è l'ora È stato distrutto Guarda chi Guarda chi Ah ma tra l'altro Io non avevo il piccolo Cosa Ah ma quell'anno Non erano Ma quell'anno Chi cazzo erano Merlin è veramente Vabbè ragazzi Ci vediamo dentro Ok la partita Inizia fra un secondo Iniziamo Io ho rubato tutto Non voglio stare qui a coprire il letto Perché non è che Mi piace molto coprire il letto Beh a chi piace Stare lì e rimanere a coprire il letto Tra l'altro uno Non si sta muovendo Penso che in pausa gioco Ok 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 con l'altro uno Ancora Ok dai cominciamo Dai non state li impalati Cazzo gli altri sono già quasi arrivati al centro Che cazzo devi fare qui Senza blu Ma il quale che sto bastardo Non si sta muovendo Grazie. E dai, ritorniamo a prendere un oro. Perché sono a distanza? Vediamo. Porco cazzo, che spavento. Ma con la uno dei miei. Ma guarda sto bastardo. Per cucane, per cucane, per cucane. E dai, 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 dai. Noi sono un grande biletto. Bravo, bravo. Trei in tare. Non ce l'ho. Non lo potrei, l'ho, è muto. Ora mi devo fermare veramente bene. Allora. Nooo. Ecco. Cavolo, devo armare. Devo armare veramente. Adesso. Adesso non stiamo più scherzando. Adesso veramente inizia la lotta. Sono fatto di tutto. Sono 05 rimasto. Vorrei restare qui a camperà. No, veramente. Dovamo iniziare a proteggere prima il letto. Che paga. Generazione. Stai. No, abbiamo fatto un grosso sbaglio. Che coglioni che siamo. Non giocate mai con noi. Se entrate in spazio di Minecraft. Uscite subito. Porcane. Cazzo. Adesso dobbiamo ripristinare del tutto. Ma... Allora, sentite. Al centro c'è qualcuno. Cazzo. Allora, io direi. Cazzo, se mi arrivo. Non vuole finire adesso la partita. Si sta facendo bella. Ma che non mi vedono. Perché sono shiftato. Quando sono... Se alcuni giocatori non saranno quel significato che è shiftato. Dovete restare così. La vostra nickname si vederà pochissimo. Non mi vedo veramente. Ok. Cazzo, l'ultimo della squadra. Sprevissuto. Sprevissuto. Cazzo, i rossi ce ne sono ancora. Però io non li vedo. Quella sono... No, quella sono verdi. E qui e lì, alcuni rossi. Cazzo. Sto distruggendo il punto. Io dovrei fare una cosa da più alto, in alto. Cazzo, che non è il punto... Sacco. E' la vista. Che è il punto. Che è il punto non è il punto. E' la vista. Che era la vista. D'attro tipo di euterte, non è il punto. guarda che non li vede sto coglione guarda che non li ha visto guarda che non li vede guarda che non si tratta guarda che non si tratta che cazzo devo fare vorrei fare un altro ma il tempo è scaduto spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale se volete noi ci rivediamo un prossimo video bene ragazzi